Ragazzi siamo ancora nel pieno dell'inverno e praticamente le giornate sono ancora corte non abbiamo ancora quelle grandi soddisfazioni, abbiamo ancora davanti a noi il febbraio, il marzo e praticamente dopo inizieremo a cominciare a produrre e ce la godiamo tutta fino a settembre, ottobre chiaramente le zone del sud sono sempre avvantaggiate per quanto riguarda il sole e prima di iniziare questo video voglio farvi vedere un breve filmato che ho registrato quando sono stato adesso al nord nella zona lombarda quindi ho girato la Brianza ho girato per visitare i miei parenti eccetera e ho girato anche il Bresciano sono andato dalla FGS che è un'azienda veramente fantastica, sempre ospitalissima ebbene ragazzi guardate questo filmato e cominciate a trarre già le vostre conclusioni perché in questo filmato, in questo video scusate, voglio rispondere a tante delle vostre domande buona visione ebbene ragazzi in questo clima così nebbioso quanto produce il fotovoltaico? la risposta è molto semplice, zero i pannelli fotovoltaici per produrre energia elettrica hanno bisogno del sole hanno bisogno che i fotoni vadano a colpire le celle ovviamente quando sono perpendicolari al sole produrranno di più che non luce riflessa che non posizionate in maniera errata o involontariamente su tetti che non hanno la giusta angolazione ora, molti di voi mi fanno questa domanda con la luce riflessa, con le nuvole, posso comunque produrre? allora, dal filmato che avete visto, che è la nebbia, che è la cosa peggiore per produrre zero arriviamo al sole con cielo azzurro che produce il massimo ebbene lì dentro c'è tutta la sfera delle produzioni allora, se la nebbia si dirade e comincia ad apparire il cerchio del sole e cominciamo a produrre qualcosa se ci sono delle nuvole leggere, quindi il cielo leggermente velato, si produce ma quando ci sono nuvole, quando c'è nebbia, non si produce nulla o quasi nulla ora, quando non si produce nulla, le batterie scendono e quando scendono l'inverter, in base ai parametri impostati, passa alla rete e preleva dalla rete la corrente per la casa quindi tutto funziona perfettamente, le batterie rimangono lì perché sono mantenute in carica dall'alimentazione della rete, attraverso l'inverter, che sia ibrido o toroidale in base alle impostazioni nostre ma, nel video numero 12 del mega impianto, io ho fatto vedere come non allacciare la rete all'inverter in modo da avere tutto all'esterno e questo, attraverso i teleruttori, l'avete visto, ci consente di avere anche la monofase perché una delle bifasi la mettiamo a terra andate a vedere il video numero 12 perché è molto interessante ora, in questo modo, non avendo la rete attaccato all'inverter e ci piace questa cosa potrebbe succedere un inconveniente ovvero, in giornate così nebbiose, soprattutto al nord, che durano anche giorni noi utilizziamo la rete però la batteria continua a scaricarsi perché si scarica? perché c'è connesso il BMS, piuttosto che l'Elerix piuttosto che gli strumenti di controllo piuttosto che lo shunt tutti quei dispositivi anche di luci, di led il display che hanno un minimo assorbimento ma che costantemente assorbono ebbene questi 10, 20, 30 watt e tenete presente che dovete sommare anche lo standby dell'inverter che continua ad assorbire dalla batteria toroidale 30, 40 watt ibrido di più 50, 70, 90 ebbene questi watt assorbiti costantemente fanno calare la capacità della batteria la tensione della batteria cosa succede? se abbiamo passato una notte in questo modo con batterie importanti non succede nulla perché il giorno dopo il sole ricomincia a ricaricare e c'è il passaggio di nuovo a inverter attraverso i teleruttori ma se non abbiamo fatto questo perché ci è impossibilitato dalla nebbia dalla neve, da giorni di nuvoloso ebbene la batteria scende finché l'inverter sentendo una tensione troppo bassa passa in cut off cioè taglia tutto lui si spegne casa nostra non è più alimentata o meglio è alimentata dalla rete ma non passerà più a inverter e questo perché l'inverter si è spento è giusto che si spegna perché deve proteggere la batteria quando lui si spegne però cosa succede? la batteria gradualmente può scendere ancora finché interverrà il BMS che farà anche lui shutdown ovvero spegnerà tutto la batteria rimarrà a 45 volt 46 a seconda delle impostazioni che abbiamo fatto ebbene per evitare questo ho realizzato sto realizzando il video di oggi dove vi spiego come salvare la discesa della batteria attraverso un dispositivo che è il solito il nostro vecchio Anmatec cioè il nostro alimentatore perché ne ho due? perché questo è quello che abbiamo usato fino ad oggi perché ci serviva per scopi che non erano caricare la batteria e di fatti qua vedete questo arriva a un massimo di 32 volt mentre questo, quello nuovo che presento che arriva a un massimo di 62 volt ebbene cosa succede? molti di voi hanno già capito questo sarà il dispositivo settato a 48 volt che dovrà partire nel momento specifico che vi spiegherò adesso e 48 volt li pescherà attraverso il cavo dalla rete e li inserirà nella batteria mantenendo la batteria a 48 volt io dico 48, c'è chi di voi imposta 49 c'è chi imposta 50 dovete scegliere voi la tipologia di settaggio che avete fatto nelle vostre celle quanto volete assorbire se il 100% arrivate al 48 se volete lasciare un po' di riserva potete fare 49 o 50 ebbene questo alimentatore stabilizzato manterrà a 48 volt come piace a me nel mio caso la nostra batteria quanta corrente gli daremo? ebbene è molto semplice noi dobbiamo fare un test molto veramente facile da realizzare abbiamo il nostro impianto funzionante abbiamo staccato i pannelli abbiamo staccato la casa quindi lasciamo l'impianto a se stesso e lì con la pinza amperometrica misuriamo quanta corrente sta uscendo dalla batteria mettiamo la pinza su un polo della batteria e vediamo l'uscita l'uscita può essere un ampere due, tre se abbiamo un ibrido anche quattro ebbene questi 50, 70, 100, 150 watt vanno compensati ecco che allora qui metteremo due, tre o quattro ampere tanto ragazzi anche se mettiamo 5 ampere o 10 ampere lui quando parte mantiene a 48 significa che lui se abbiamo messo 10 ampere magari funziona per 10 minuti la batteria è a 48 lui rallenta fino ad arrivare a zero ma mantenendo magari 1, 2 ampere che sono esattamente il consumo continuo della nostra batteria questo per quanto tempo? può essere una notte può essere un giorno a seconda di quanto abbiamo nuvole o nebbia ebbene manterrà la batteria 48 volt non scenderà non andrà in blocco l'inverter col cutoff ovvero si spegnerà non è che va in blocco e non andrà neanche in shutdown il BMS o le LRX o quant'altro le nostre celle rimangono alimentate vediamo adesso ragazzi come va fatta la connessione che è molto molto semplice in questo video vi faccio vedere anche qualche grafico della connessione e che strumenti vanno utilizzati andiamo avanti ebbene come funzionerà il tutto ancora una volta ci viene in aiuto vedete ragazzi che tanti componenti che stiamo acquistando ci rimangono per sempre per fare le nostre sperimentazioni ma anche per usarli nei nostri impianti ebbene ancora una volta ci viene in aiuto il nostro dry contact questo è il classico A30 controller ebbene con questo dry contact cosa pilotiamo? ebbene pilotiamo il nostro alimentatore stabilizzato ora ci tengo subito prima di spiegarvi il grafico a dirvi una cosa l'alimentatore della Anmatec fino a 32 volt questa versione qua non ha il riavvio automatico mi spiego meglio se io adesso accendo vedete che la lucina qui è rossa se io accendo lui diventa verde e inizia a erogare ebbene se va via la corrente adesso lo stacco staccando la corrente dall'alimentazione ebbene lui si spegne il momento in cui il dry contact che lo deve pilotare chiude il circuito e quindi lo accende come adesso vedete che si è acceso ma non è partito bisogna sempre attivarlo manualmente e quindi questo Anmatec non può essere utilizzato sull'impianto su questo progetto per mantenere attiva sempre la batteria quello nuovo meno male ha una caratteristica diversa vedete che è acceso io sgancio anche qui l'alimentazione scusate sgancio l'alimentazione si è spento vedete adesso io inserisco l'alimentazione come se fosse il nostro dry contact che richiude il circuito quando arriviamo alle tensioni prestabilite e lo riattiva ebbene riattivandolo ho rimesso l'alimentazione e vedete che la luce è verde cioè lui è ripartito non ha bisogno dell'attivazione manuale questo ragazzi è fondamentale per coloro che invece non vogliono questo Anmatec perché non usano un alimentatore stabilizzato l'avete visto nelle immagini precedenti c'è questo questo è un alimentatore semplice con la sua spina con l'uscita che va modificata per portare due cavi positivo e negativo alle batterie e questo ragazzi è molto molto più semplice di tutti i prodotti ovviamente ci sono i link sotto a questo video la gestione di questo è sempre pilotata dal nostro dry contact quindi il momento in cui noi abbiamo impostato con i tastini qua che questo deve partire a 47 e fermarsi a 49 ebbene qualsiasi cosa questo butta dentro di qualsiasi tensione lui fermerà alla tensione prestabilita da noi quindi scegliete voi se questo prodotto molto più semplice nel caso non abbiate bisogno di questi alimentatori con i quali potete fare tante cose alimentare provare testare se invece volete una cosa semplice questo modificate i due cavetti li fate in uscita positivo o negativo la spina la interrompete col dry contact e tutto funziona adesso vediamo proprio come interrompere ovvero come gestire tutti questi passaggi ragazzi è molto semplice e in questo video metto anche i grafici del dry contact e quelli del teleruttore in modo che avete una panoramica totale per andare a realizzare poi quello che volete voi allora partiamo dalla 230 volt cioè dalla rete ok intanto una premessa ragazzi coloro che sono off grid e che non hanno la rete non possono fare questo perché non c'è la rete e quindi devono sapere che le batterie non devono mai scaricarsi devono essere controllate ecco perché tutti i parametri di 48 volt è meglio portarli a 50 50,5 in questo modo abbiamo una riserva che evita che durante una notte un giorno due di nebbia o di neve vadano a scaricarsi le batterie teniamole comunque sempre sotto controllo eventualmente diamogli una carica se abbiamo optato per l'off grid avremo sicuramente un generatore che ci garantisce una sorta di inserimento di corrente qualora venga a mancare il sole per tanto tempo questo è fondamentale ok ebbene partendo dalla 230 noi abbiamo l'alimentazione del nostro alimentatore qualsiasi esso sia l'alimentazione però vedete che una entra e l'altra invece è interrotta da cosa dal dry contact il dry contact sarà settato a 47 volt parto ovvero la batteria sta scendendo voi siete passati a rete a 48 lui a 47 il dry contact vede che la batteria sta calando tic chiude il circuito si alimenta il nostro alimentatore stabilizzato che è connesso in maniera fissa alla batteria attraverso le barre equipotenziali positiva e negativa lui è connesso fisso ma non eroga perché è spento il momento in cui dry contact chiude il circuito alimenta questo che fa passare la corrente a bassa tensione a 48 volt ed entra in batteria lui continua a erogare gli ampere che consuma il nostro impianto ovvero lo stand by qualche lucina qualche monitor tutto ciò che abbiamo attaccato ecco perché bisogna mettere quell'ampere in più ok a questo punto quando non c'è sole lui continua così anche per una notte un giorno due giorni e si e rallenta quando è arrivato a 48 il giorno in cui esce il sole e ricomincia la carica sale la tensione e arriva a 49 ebbene il dry contact a 49 sgancia apre il circuito e questo smette anche di consumare quello che è il suo assorbimento quindi è il dry contact che parte a 47 e interrompe a 49 questo funzionamento l'alimentatore questo quando rimane a 48 rimane sempre lì perché l'abbiamo settato a 48 volt ok quindi ve lo faccio vedere qua in diretta ragazzi qui siamo a 62 scendiamo 48 basta lui rimane a 48 poi mettiamo gli ampere io ho messo 3 ampere vedete 3 ampere possiamo mettere 2 possiamo mettere 4 in questo modo in funzione degli stand by dei consumi lui eroga e poi cala 4 ampere poi diventa 3,5 3,2 fa il mantenimento ora la cosa importante è che questi settaggi se tenere a 48 o intervenire a 47 49 sono soggettivi dipendono da tanti fattori se avete tanti pannelli che parte subito la carica eccetera è meglio alzare un po' portarlo a 50 50 e mezzo prima che il dry contact interrompa perché sapete che quando abbiamo tanti pannelli la tensione finta va a entrare in batteria salgono le tensioni ma se sganciamo qui può darsi che siamo ancora bassi e quindi può crearsi questo effetto dindon dove attacca stacca attacca stacca questo lo dobbiamo evitare totalmente ecco perché attraverso i vostri personali microtest poi segnalatemi anche nei commenti che cosa avete preferito che cosa avete fatto come sta funzionando perché è sempre gradito condividere la cultura generale ebbene è molto semplice ragazzi e penso di averlo spiegato bene adesso vediamo anche qualche grafico alla fine di questo video in questo modo manteniamo la batteria a 48 volt l'inverter non va in cut off non spegne tutto non si spegne la casa il BMS peggio ancora non va in protezione staccando tutto e come? semplicemente attaccando un alimentatore di queste tipologie sul nostro impianto ragazzi questo video è interessante perché molti mi hanno fatto queste domande su come reagire a fronte della scarica della batteria ebbene in questo modo riusciamo a mantenere attiva la nostra batteria il nostro BMS e il nostro inverter finché torna il sole e ripassiamo da rete a inverte ragazzi questo è tutto questo video spero sia stato di vostro interesse iscrivetevi a questo canale e ci vediamo al prossimo video buona serata grazie a tutti grazie a tutti